Aiuta AJ a fare amicizia Più carino però Ok, allora dobbiamo fare in modo che il piccolo AJ riesca a chiedere scusa magari per un po' di cose che ha combinato Dai, chiediamo le scuse Dile che avevi paura Che carino, veramente Allora, andiamo a vedere a chi è che ha fatto del male Beh, sicuramente a lui deve delle scuse Ok, non si sente ancora pronto per chiedere scusa a lui, quindi andiamo avanti Ciao 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 C'è Clementine, certo? Sì, un sim, certo? C'è quello che scrive? C'è quello che succede oggi? C'è il mio cronico tutto Hmm, come un diario? Penso di pensare di più come un libro di storia Ci che non insegnano dal passato e tutto questo È tipo una specie di diario dove conta quello che è successo, destituiscilo Ok C'è problema Sembra simpatico anche lui, non mi aveva dato una buona impressione all'inizio, invece mi piace, mi piace Ok, allora non è ancora pronto per lui, proviamo ad andare a parlare con la ragazza laggiù, anche se non credo che AJ abbia fatto nulla di male alla ragazzina laggiù Cosa è questo? Il nostro cronico Ci sono ancora quello che facciamo? Molto, molto Quindi, chi è scocato qui? In realtà nessuno, qui siamo scocati le 10 ragazzi, Minnie e Sophie, le ragazze, perdonoci le loro un anno fa Ok Pagare con la ragazza Perchiamo anche quello? Potremmo Non ho mai visto nessuno fare questo C'è una cosa abbia di fare molto, AJ Oggi grazie questo è una cosa che non lo conosceva andiamo a parlare con loro prima è un po' più un po' più tipo Ma chissà che fa a me poraci. I'm really sorry I hate you. Can we please stay here and eat dinner and not go out into the forest and get killed by monsters? Don't sweat it, buddy. You can make it up to me by teaching me your technique. You, regular heavyweight. Hey, Clem! AJ! Stu's done! Beh, sarà anche un pelino ansioso, però di sicuro reagisce istantaneamente alle situazioni di pericolo, no? No. Salute! Salute! I'm full, kiddo. You can have the rest. Purino, va con la pavve. What's the game tonight, Lou? War. The oldest game around. A game played by man and beast alike. The only game there is. Sounds fun? How do we play? It's easy. Everyone gets a stack of cards. Everyone flips on over. Highest card wins. Ah, vabbè. Grandi tattiche. Grandissimi tattiche. Grandissime. And what if I win? Okay, arriveder. Go ahead. What about AJ? What about him? Looks like he's made a friend. Come on. You can take your eyes off and input one card game. I bet you both could use a break from each other. Eh, best scene. No, no, no. Postal liee. This is his first time around anyone's own age. Sometimes he acts more like an adult than a kid. Non puoi neanche stargli sempre con il piatto sul collo Tipo gli occhi puntati Costantemente C'è The two don't really look related so They're dead, they were nice people For the most part It makes sense, he's a nice kid For the most part Jack I capelli di Marlon Semplicemente che non batte di modo da tipo 30 anni ma va bene E' la cosa più importante i capelli di Marlon Cioè da quando l'ho visto che pensavo ai suoi capelli Adoro Luis, lo amo Cioè da quando l'ho visto che ho avuto una bambina Cioè da quando l'ho visto E? E noi siamo amici Solo amici E' altro? E' altro? E' altro? E' non lo so che tu chiedi Ma ho avuto qualche tipo di sensazione Fora lui E' magari non proprio amare Ma... Algo Ah, io vengo E basta Tutti a me le domande Ah Lee Capelli corti Come si spara Cima più ripugnante Cima più ripugnante Il melone C'era ragazzi Lo amo lui L'ho messo un attimo in ansia Il melone Non mi piace questa cosa Non rispondo Non rispondo Non rispondo Non rispondo Che'� sigårt Non rispondo L'ha messo C'e? Ma non dovremmo tirarci studi morale coi giochi? Cioè Belli i vostri giochi Chi morirà prima? Chi hai ucciso? Era più bello finché si parlava di Verone Buongiorno Buongiorno Aveva paura che non lo facessero restare Buongiorno 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 Sì lui più di tutti Eh mi dispiace che Tenrest era deluso Ma lui più di tutti ha bisogno di Avvagarsi un attimo Buongiorno 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 Si è bello bene. Mi pensavo che sei abbastanza cool. Oh, grazie. I guess. Sei abbastanza cool, anche se non gli stessi di questi walkers. Hey, Klim. Sono un artiste. Non è buono, figlio. Che carino Con le pistole Appendi Possiamo arredare la stanza? Rilly Ma perché dorme sotto il letto? Sì, c'è quello che faccio? Questa è lì dove dormo Cosa? Non, non è niente Non è sicuro qui Nessuno può mi prendere Beh, è sicuro qui qui, anche Voi vedere la stanza di questo paese? È enorme E c'è abbastanza di città per mantenere la stanza C'è la porta? C'è se qualcuno viene in? C'è se si cercano di us? C'è se si cercano di usare la stanza? E' talmente abituato a dormire per terra che Per lui è naturale Magari non durerà per sempre C'è nel senso Non durerà tanto Ma smettiamolo Finché c'è Il舒服 di casa Se frata E il nuovo Il nuovo Innanzitutto Le scuzie Il nuovo jancio Un Il Un